Dopo il successo in casa nella gara d'esordio assoluto a cui si riferiscono le immagini otto giorni fa, è sfortunata la prima prova in trasferta per il Marina di Ragusa nel campionato di Serie D. Tre minuti di distrazione e gli blei compromettono la gara contro l'altra matricola del torneo, il Corigliano che vince per 2 a 1. Al 28esimo e al 31esimo del primo tempo i Calabri vanno in vantaggio. I rosso-blu, nonostante per tutto il secondo tempo abbiano cercato di recuperare il doppio svantaggio, non sono riusciti nella rimonta. La difesa a Calabra si è chiusa e ha concesso poco, soprattutto dopo aver subito il gol del Marina su calcio di rigore al 15esimo della seconda frazione di gioco, che ha praticamente riaperto la gara. Ancora una volta Mistret è stato bravo a trasformare dal dischetto, mettendo a segno il suo quarto gol in quattro partite. L'attaccante era stato bravo anche a procurarsi il calcio piazzato, cercando il contatto su corso che aveva saltato in dribbling. Ci hanno provato poi Bonfigli e Cobelli a segnare il gol del pare, ma non è servito. I due gol alla fine risulteranno decisivi. Per il Marina è la prima sconfitta in campionato. Nella prima giornata la squadra di Utro aveva battuto il Nola per 2-1.